E ora spostiamoci al Passo San Pellegrino, dove gli atleti primierotti sono stati protagonisti dei campionati italiani long e a staffetta di Orienteering. Ci racconta tutto Gianfranco Benincasa. In un weekend autunnale Passo San Pellegrino in Val di Fassa ha ospitato gli italiani di staffetta e long di corsa orientamento. Il titolo a squadra femminile, dopo un'ora e 46 di gara, è andato all'Unione Sportiva Primiero. Nicola Scalette, Francesca Taufer, Anna Pradella al maschile, primo in un'ora e 29 il PVT, team Vicentino, formato dai trentini Tommaso Scalette e Mattia De Bertolis e da Sebastian Inderst. Vittorie trentine anche nella prova long con i primierotti per l'appunto Mattia De Bertolis. E Anna Pradella De Bertolis in un'ora e 27 ha staccato di oltre tre primi Francesco Mariani, poi l'isportiva Masi, terzo tempo di giornata, non valido per il titolo italiano, per il norvegese Oskar Storhoff, terzo italiano alla fine invece Sebastian Inderst. Anna Pradella in un'ora e 42 ha preceduto con ampio margine Viola Zagonel, ragazza di Imer, che corre per la polisportiva Masi e Maddalena De Biasi, tarzo orientiling. A contendersi i titoli oltre 750 concorrenti provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia.